L'edizione 83 di Pitti Filati si è conclusa alla fortezza da basso il 29 giugno in un'atmosfera di grande vivacità tra gli stand con i migliori compratori arrivati da tutto il mondo ad approfondire le novità nelle collezioni delle filature top a livello internazionale e a scoprire le nuove tendenze per le prossime stagioni. Il grande lavoro svolto sulla ricerca e gli investimenti consistenti sull'innovazione da parte delle nostre aziende hanno portato risultati importanti anche a questa edizione, ha detto Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine. Lo dimostrano la presenza alla fortezza di un pubblico più che mai qualificato di designer, uffici stili e operatori del settore tra i quali sono stati raccolti feedback di grande entusiasmo. Il totale dei compratori ha raggiunto quasi quota 5.500 presenze, un 2% in più rispetto a un anno fa, con i compratori esteri a confermare in pieno i loro numeri, 2.900 circa le presenze internazionali, pressoché confermati i numeri dei principali mercati di riferimento del settore. Performance positive per Russia ed Est Europa, Cina, Turchia, Olanda, Hong Kong, Corea del Sud e per i paesi del Nord Europa, in flessione Giappone e Spagna. Una bella sorpresa per i numeri dei compratori italiani, con una crescita del 5%. Grazie.